Signor Conti, oggi Kill Race! Sì, 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 una bellissima Kill Race! Sei pronto? Bello? Let's go! Ma io non ho capito perché ogni volta mi chiami per le challenge più facili Cioè tu vuoi proprio perdere i soldi comunque, eh? Ah, addirittura per le challenge più facili! No, vabbè, comunque, allora, io ti dico Ho già fatto una kill Intanto, nel mentre che c'è un altro tipo qua, io mi muto un secondo Conti Che mi sta chiamando mia madre Sì, sì, mi sta proprio chiamando mia madre Sì, ho capito, ma registrami i video, fai neanche la intro Già ti chiamano le persone, dai, sbrigati Che non c'ho adotto il mio Vabbè, arrivo, dai, dai, un secondo, un secondo Ragazzi, guardate il mio nome, non ve lo sto neanche censurando Perché il giorno che uscirà questo video il signor Conti avrà già cambiato sim, poverino Ma vi dico solo che oggi andrò a mettere il suo numero di telefono nel nome di Fortit E soprattutto andrò a farlo chiamare in ogni modo Comunque mi smuto Eccomi Conti, seconda kill fatto, let's go! Ma com'è già seconda kill fatto? Ma come cazzo non l'hai fatto? Io non ho ancora trovato nessuno per ora Mi sto facendo gli shieldini, mi sto facendo un po' i cacchi mei Ma non ti preoccupare perché tra pochissimo il signor Conti se ne inizierà a fare tantissime kill Ok, ok, nel frattempo tu continua pure a sognare C'è un tipo qua vicino Sognare Oh, oh, cantare Conti, cosa stai cantando? Cioè, che cosa stai dicendo? Non lo so, non lo so, non lo so, lascia stare Sono molto agitato perché voglio vincere assolutamente questa challenge Quindi sono un po' agitato, devo essere sincero Ok, let's go baby Signori, io vi ricordo come sempre il codice pomo nel negozio oggetti E nel frattempo mi vado a fare questo big Allora, signor Conti, qua ci calmiamo Nel frattempo, sai, io cosa faccio? Vado dritto al bunker Oh, 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 aspetta, aspetta Mi sto chiamando Mi stanno chiamando Eh, non risponde, non rispondere Ai, 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 mi è distrutto Non rispondere, non rispondere, bro Ok, ok, va bene, va bene Eh, ho capito, ma numero sconosciuto Ma, vabbè, non è che tipo qualcuno ha scoperto il numero Spero di no No, no, non credo Come fanno a scoprire il numero? Ma va, ma va Oddio, mangiato, signori, troppo forte Ho ucciso Alfredo Conti, sono il più forte del mondo Ah, ma basta fare kill Basta, stai già a tre Eh, lo so No, quattro, quattro kill Che tre Ok, comunque Vabbè, vabbè, niente, dai Scusami Conti, arrivo Oddio, intanto vado a uccidere questo Ok Ragazzi, mi sono mutato Lo hanno già chiamato Al frattempo vado a farmi sta kill Sì, let's go baby Boom Ok Cioè, letteralmente Se non mi chiamano adesso Anzi, se non lo chiamano adesso In mille modi differenti Raga, veramente Me ne vado Chiamatelo Eccomi Conti Mamma mia Scusami, ma sono veramente Troppo impegnato oggi Allora, io te lo giuro Che se ti muti un'altra volta Io chiamo mia madre E Non lo so Ti faccio bannare da forte Perché ogni volta C'è ti muti Che fai cose a caso Però stiamo registrando Un tuo video Non è che io sto qua A pettinare le bambole Sto facendo un video per te Un po' di serietà Per favore Per favore Chissà, chissà Che cosa è successo Eh, vabbè Oh, senti Eh, purtroppo Tra poco Devo andare a mangiare Anche perché sta registrando Alle sette e mezza Eh, non Orario Ho capito Infatti c'ho C'ho una fame Che mi vorrei mangiare Veramente Non lo so Sai io cosa mi vorrei mangiare Eh, vabbè Non te lo dico Comunque Vado ad aprirmi il bunker Signori Non ho capito Ma tutte le persone Non sto trovando io Le stai trovando tu Cioè, noi stiamo già in quarantuna Non ho trovato nessuno Ah, quindi tu mi stai dicendo In tutto questo tempo Che ancora non sei stato Tu non hai fatto una kill Io mi sto a fare la passeggiata Dei Heidi Insieme alle caprette Non so trovare nessuno No, non ho parole, ragazzi Poa Poa, poa, poa Poa Mi stanno chiamando ancora Eh Ma è lo stesso No, è un altro numero Com'è un altro numero? Io rispondo, io rispondo No, vabbè Rispondi Che ti devo dire, Conti? Pronto? Orri? What? Che si dice in inglese Come è fatto andare il numero? Non so Non so l'inglese How you get my number? How you get my Vabbè, in Qlet Ma, Conti No, no, ma Cioè, veramente T'hanno chiamato adesso In questo momento Sei serio? Poa, poa Ma ha chiamato uno Ma ha iniziato a parlare in inglese E ha detto Ah, bello Non è che Cioè, io già so poco l'italiano E se mi metti a parlare pure in inglese Sono fregato Sono fregato Ma è strato che non ti diceva tipo Lubo Oh my god You killed me Sai cosa vuol dire? Eh, no, vabbè Sì, ma che c'entra Fortnet Con il numero No, no, no Vabbè, niente Sai cosa faccio, Conti? Tanto che sono dentro il bunker Mi vado a prendere Una superarma spaziale Eh, aspetta Mi vado a mutare un altro secondo No, aspetta Ma mi continuano Mamma, gente Mi scrive messaggi Mi scrive messaggi No, no, no Conti, non ci chiedo Mandami lo skin su WhatsApp Mandami lo skin su WhatsApp Te lo mando, te lo mando Regà, ci sta uno qua davanti a me Lo cecchino Lo cechinato Mamma, quanto so forte C'ha tipo 50 di vita questo qua Lo vado a uccidere Let's go Bravissimo, Conti Fortissimo Sei veramente troppo forte Intanto io sto scendo dall'agenzia Con ben 5 kill Signori Troppo, 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 troppo Potente A differenza di Conti Che letteralmente In sto game A farsi le pippe Stai zitto Dai, dai, Conti Ti stai facendo le pippe Siamo seri, dai Magari Questo non me l'aspettavo Dovevo essere sincero Gente davanti a me Signor Conti Allora Intanto Ti è già arrivata l'altra chiamata qua Perché Giusto per sicurezza Te lo chiedo, eh Ma scusa Ti interessa Tutte queste chiamate Allora mi stanno scrivendo dei messaggi Tipo gente a caso Che ovviamente ho già bloccato E mi arrivano chiamate su chiamate Non so per quale motivo Allora ci sono due cose O qualcuno ha dato il mio numero Tipo in un sito strano Che parlano tutti l'inglese Oppure non lo so C'è qualcuno che mi sta a fare uno scherzo Io non lo so sinceramente Allora io sinceramente Conti Non lo so Ma ho appena fatto una del kill Più assurde ragazzi di sempre E veramente Dopo questa Conti Se non ti chiamano un altro Cioè Se Vabbè Se vado Se non trovo qualche altra persona Mi arrabbio Ho capito questo che stavo dicendo Ma non ti sto Oggi è un po' strano Sinceramente Non so cosa ti interessa Del mio numero di telefono Ma ok Va bene Penso a fare le kill Non imprezzare al mio numero Ma che Ma che Ma che Ma che ragazzi Ma vi pare Io farei una roba del genere No 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 Comunque Allora Io me ne sto comandando Ad andare a Trovare persone Ancora Oh ancora No 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 Pulis Pulis I'm I'm Ti tibanno Non rompe un mucaz Non me rompe Mucaz Please Non me rompe l'ucaz Grazie Ma no ma Conti Ma non così No Conti ma poverino Ma magari è pure uno straniero Cos'è che ti ha detto Se ero Era Era un ragazzo Se mi aveva avuto 16 anni Ma perché Non ho capito perché mi parlano in inglese Non capisco Eh perché ti parlano in inglese Perché Hanno trovato il tuo numero online Forse Questo non so se era proprio inglese Perché aveva un accento diverso Se mi era tipo Non lo so Non so chi ha detto Secondo me era Era rumeno Secondo me era tipo rumeno Tu che ne sai Eh No Che Vabbè Non lo so Cioè comunque molti ragazzi che giocano a Fortnite Anche provengono da diverse nazioni C'entra Fortnite No scusa Ma che c'entra Fortnite Vabbè Perché te l'ho detto Conti Cioè Diciamo che il numero online Si potrebbe trovare anche su Fortnite Si potrebbe trovare su dei siti Si potrebbe trovare su altri giochi No assolutamente no Il numero di telefono è privato Non credo che su Fortnite compare il mio numero di telefono Conti ma scusami Una domanda Non è che adesso qualche tuo iscritto O comunque qualche tuo abbonato Magari Ma nessuno c'ha il mio numero di telefono A parte te E gli altri Ferro Cioè solo voi avete il mio numero Non è che do il numero ai miei iscritti Vabbè Non mi faccio ulteriori domande ragazzi Signori Ne vedo uno davanti a me Intanto quando è che gli faccio? 33 Ma insomma Vagli a fare un 200 33 che cos'è? Gli anni di Gesù No non credo No non credo Cioè adesso Basta questa è l'ultima volta che ti muti poi basta Va bene va bene Giuro Ragazzi questa volta lo voglio chiamare col numero privato Infatti lui dirà Ma come numero privato? Ma chi è? Guarda guarda State a guardare Ok Ok Vai ho avviato la chiamata Ok Eccomi Conti Ancora mi aveva chiamato mia madre naturalmente Perché tanto Basta 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 Ma come numero privato? No Come numero privato? Come numero Aspetta non rispondere Non rispondere Conti Questo qua non te lo consiglio di rispondere Perché sarà tipo uno di quelli che Assolutamente no Aspetta che mi sparano Mi stanno sparando Vai Conti Vai puscialo anche a me Anche io sto sparando Ok aspetta che lo sto uccidendo Mamma mia quanto so forte Sono troppo forte Mi devi fare complimenti Perché sono devastante Vabbè adesso Conti Solo perché fai un paio di kill Guarda io ne ho fatte Otto signori Ho pure ucciso Cleopatra Ho ucciso la dea del Delle chiamate a Conti Mi sa Cosa Tu con questa cosa del mio numero Mi puzza Perché Cioè Tu parli del mio numero Dopo che mi chiamano in così tante persone Poi mi dici il mio numero su Ford E poi mi dici Stai dicendo Ho troppe cose che coincidono Non è che sei tu che mi stai a fare uno scherzo No Io io no Va assolutamente Semplicemente mi piace il tuo numero di telefono Ma qual'è che era Anche perché se fai uno scherzo Cioè Perti la denuncia stavolta Ma qual'era Quello che faceva 3,6,9,2,9 Oh sì Pua Tranquillo Tranquillo La taglia questa parte nel video Tranquillo Non ci mancherebbe Ti butto giù il video Non mi interessa Ok Signori qua è letteralmente pieno di gente Non so se riesco a uccidere Non so se scappare o andare a pushare sinceramente Non sai cosa dovresti fare Non andare a pushare Ma andare a pushare No No Pua Pua no Non essere scurrile per favore Ah vabbè Non ho scorreggiato eh Non c'era per forza bisogno di dirmi Questo mese io per Rerefe Avremo una grande sorpresa Iscrivetevi al nuovo canale della gang Per non perdervi tutti i video Strafighi che usciranno a breve Signor Pua mi dispiace Ma devo scappare Ci sono letteralmente 20 nemici Qui in questa zona E non posso rischiare Non voglio morire Voglio vincere una partita Però Conti Non puoi durare quanto Una Una Quanto Vabbè Non lo so Non mi vengono in mente Parallelismi Sta di fatto C'è un tipo qua Davanti a me Bisogna sfruttare attenzione Vabbè Vabbè Comunque Non ascoltiamo Quello che stai dicendo Pua C'ho 10 di vita Ma sto scherzando Questo qua è fortissimo E quindi Cioè Salutami 10 di vita Che ti devo dire io Cioè Non è mica colpa mia Pua Pua Ti prego Salvami Ah no Non puoi fare niente Ovviamente Eh no Non posso fare niente Oddio 112 Boom Let's go Baby Troppo forti Così come va a tutelarmi Mitiche signori Oddio Che figata Conti Mi sono messo troppo bene Troppo 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 bene Mi sto messo super male Pensa Scappare Scappo e vado via C'è un player che mi ammazza Mi cacciano la polizia Vabbè Fa niente Prima chiami Ti chiamo Ho un'idea assurda Che cosa vai Non puoi camperare Damma Conti Non mi interessa Non mi interessa Io voglio fare la vittoria Non voglio perdere No no Ma che non devi camperare Adesso basta Cosa Adesso basta Adesso basta Io adesso chiamo la polizia Banno questo numero Non mi interessa Non mi interessa Non è possibile Non è possibile Poco mi stanno arrivando 20 chiamate in una partita Cioè in un video Non mi hanno mai chiamato Cioè questo è il record mondiale Di chiamate in assoluto Non so che dire Ma poi soprattutto Perché arrivano ogni volta Che io faccio Una kill Ma poi perché arrivano solo a me Non arrivano a te Non ho capito Secondo me qualcuno ha messo Il mio numero In qualche sito Non è per forza Non me lo schermo Pure il numero di telefono su Fortnite Beh diciamo che non è che sarebbe Una novità Dato che molti dei miei amici L'hanno sempre fatto Soprattutto io l'ho sempre fatto Io sempre Ok Non lo so Non lo so Ma mi sembra un po' Una cavolata Cioè ti pare che Uno prende il mio numero Lo mette su Fortnite Sarebbe proprio stupido Però vorrebbe anche molto ridere Allo stesso tempo Se ci pensi In realtà sarebbe proprio Uno da prendere E picchiare Secondo me Cioè se qualcuno Mi sbaglio Prende il mio numero di telefono Lo metto su Fortnite Io mi presento sotto casa sua E lo riempio di botte Addirittura Beh ragazzi Non fate come Conti ragazzi Perché non è una cosa Molto positiva Comunque Io ne vado a pushare un altro E ti dico solo Se questo colo riesco a uccidere Forse ti chiama un'altra volta Vado a ucciderlo Conti Uuuu Non so Ho capito quello che stai facendo Ma spero di non aver capito Eh te lo dico Boom Let's go Let's go Boom Let's go Ci sono anche questo Poverino Niente ormai solo 4 Solo 4 Trova le armi È assurda sta cosa Solo 4 Eh vabbè No le armi no Le persone si Ho 10 kill raga Posso fare Guarda questo Guarda questo che è matto Guarda questo che è matto Boom Oddio Oddio Non so come faccio essere vivo Non so come faccio essere vivo Conti Non so come faccio essere vivo Non lo so Non chiedete Let's go baby Andiamo a pushare Guarda Poi lo vedrai dalla rec Ma sto facendo Dei Dele kill Veramente assurde Ok Cioè sto tipo a 20 kill Anch'io Forse anch'io Forse anch'io No devo prima curarmi raga Perché letteralmente Non sto capendo quello che sta succedendo Quindi tu Conti hai fatto una kill? 2 Però bravo Conti Yes Ma soprattutto questo qua Bam Ok Dai Uno morto Un altro morto Non ci credo Ho fatto una kill assurda Non c'ho idea Bravissimo Mannaggia a te Ti dico solo che questa kill La sto totalmente vincendo Io giuro Non vedo l'ora di vincere Let's go guys Zitto che c'è uno sopra Alla casa mia Salve No 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 Perché c'ho 15 di vita Porca vacca Scappa Conti Scappa Conti Scappa Dove fare la mia kill Conti Zitto 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 Che qua devo vincere io Dove sei? Bomb Bomb Let's go 13 kill No poa 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 zitto Poa Non so neanche io come sono vivo Te lo dico Non lo so neanche io Come non sai come fai a essere vivo Ma in tutto questo L'hai fatta una kill almeno o no? Perché non si capisce Ho tre kill Tre kill Non so se hai capito Provai che questo mi continua a sparare Non riesco a farmi il medit Vabbè senti dai su Mi sono rotto abbastanza il cacchio Distraiti un po' con questa No 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 Poa 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 Mi stanno richiamando Mi stanno richiamando Non posso rispondere Eh ti ho appena detto infatti Distraiti un po' Vaglio a rispondere a questo qua Cos'è che ti potrebbe mai dire Ma sto tryhardando Non posso rispondere Eh ma gli devi rispondere Almeno in un modo poverino Cioè chissà quante volte T'avrà chiamato Non muo gli rispondo Guarda mi cam per un attimo Non faccio il medit Poi gli rispondo giuro Vabbè va bene Perché voglio capire Chi cacchio è questo Tu vai quel che vuoi Nel frattempo signori Quattro persone rimanenti Tra cui una sono io E questo cappia L'ha fatto una kill Dove mi ha sparato il bastardo Quattro di vita Sono quattro di vita Credo Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Dai ma conti Ma su ma conti Ma non puoi fare una roba del genere Però Cioè sei veramente scala Allora ho un tezzo Ho un'idea Adesso richiamo Il numero che mi ha chiamato prima Così capisco chi è Ok vai fallo Sentiamo Sentiamo Che c'è qui di questo Conti magari ti potrebbe chiamare Ti potrebbe non chiamare Non lo so Sta di fatto che io sto andando a fare La kill In tutto que Ehm 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 Che quindi No no Parla un attimo tu che stai in chiamata Ehm No che Che cosa Che è successo Ehm No no parla parla E sto andando a fare chi conti Vai tu continui andando pure la tua kill race Perché potrebbe anche capitare che Pua Sei tu No non c'è forse Pua ma Perché mi stai rispondendo tu scusami Ehm Allora facciamo Perché mi hai chiamato tre volte Con un numero privato Aspetta tre volte Però tu quante volte Quante volte hai Ehm Ricevuto chiamate Io ho ricevuto 20 chiamate Ehm Ora richiamo pure gli altri dopo Perché voglio Ma non ho capito Perché mi hai chiamato Ehm Perché allora C'è un piccolo problema Ehm Cos'è che posso aver fatto io secondo te su Fortnite Dato che ti stai chiamando così tanto persone Tu puoi aver fatto tante s*****ate Perché cioè ti conosco Una cosa che mi viene in mente Che potresti aver fatto E hai messo il mio numero di telefono Per forza Conoscendoti Bravissimo Conti ragazzi Conti è appena cascato Di questo nuovo troll Ma tu lo sai che adesso Devi cambiare per forza La tua sim No Conti Con calma Conti Lo so che potrebbe essere Una frustrazione Però adesso al massimo Vuoi spendere altri 20 euro di sim Ma qual è il problema Spuma Io e te non siamo più amici Godo Oh finalmente Quanto tempo lo sogniamo A questo momento Eccolo qui l'ultimo signori Andiamo a prenderci questa Quindicesima kill E frattempo Conti Io spero che ti chiami anche questa Ma io spero che questo qua ti vada a chiamare Infatti signor Andiamo a fare una super kill Ma soprattutto Codice Povero Toglilo Mi chiama pure questo No bova Sbrigati Esci dalla partita Se no ti chiama Eh no Eh in verità In verità No non esco dalla partita Infatti ti andrò a far chiamare Un'altra volta Signor Conti Buona comprata di un'altra sim Signori vi ricordo una cosa Codice Povero Melite tu i soldi Melite tu i soldi per la sim Io non li spendo io Beh dai Sono solo una trentina di euro Nulla di più eh Ma vaffan Ci vediamo al prossimo video Iscrivetevi al mio canale Anche quello di Conti Ci vediamo al prossimo video Bella Bella